ciao a tutti i guardiani eccoci ritornati per una nuova video guida per le taglie dell'avanguardia oggi precisamente andremo a vedere come fare facilmente una taglia piuttosto difficile direi sovraccarico difficile perché bisogna interpretarla ovvero uccidi due nemici in una volta sola con un fucile a fusione per 20 volte interpretarla in che senso intendo dire che con un fucile a fusione normale ammazzare due nemici in una volta sola non è così semplice nel senso che dovete beccarne due vicini deboli avere un fucile a fusione sufficientemente potente per poterli chillare tutti e due questo dovete farlo per 20 volte il che significa tradotto in termini di tempo che ci vorranno diverse decine di minuti per portare a termine questa taglia un tra virgolette trucchetto anzi trucchetto bisogna praticamente conoscere bene le proprie armi o lo fate con un fucile a fusione se ce l'avete il metodo che io vi vado a suggerire questa sera è utilizzare il nostro simpatico mitico grandioso eccezionale mitoclasta vex questo non è potenziato perché è uno dei quattro che ho droppato e lo sto lo devo ancora potenziare ma va già bene perché perché è un fucile a fusione questi ragazzi il mitoclasta vex è un fucile a fusione equipaggiato come arma primaria e spara colpi come se fosse un fucile automatico questo significa che in un gruppo in un gruppo di nemici piuttosto numeroso sparare con questo nel mezzo si farà la taglia sovraccarico in una maniera ultra rapida quindi equipaggiate il vostro bel mitoclasta vex che spero ormai a distanza di mesi dall'uscita del di destino penso che tutti quanti ce l'abbiano e andiamo nella solita nostra missione oscurità oltre sulla luna livello di difficoltà 9 al primo rientro limitato dove c'è il portone che si apre ed escono tutti gli schiavi nemici dell'alveare livello basso andiamo eccoci al nostro bel rientro limitato guardiano a terra attiviamo il nostro bel guardiano sorbiamoci l'infinito filmato che non si può saltare eccoci qua mitoclasta vex il nostro fucile a fusione miriamo a quanto siamo arrivati guardate siamo già a 13 di 20 facciamoci uccidere e ricominciamo ecco fatto guardiani sovraccarico taglia completata in quanto tempo penso forse un paio di minuti se più o meno due minuti andiamo a cercare un posto dove fare i nostri saluti consueti e adesso mi vado a fare anche l'evento opzionale vi saluto e al prossimo video ciao